In questo rapporto abbiamo analizzato una parte di contesto internazionale dove abbiamo confrontato le diverse soluzioni organizzative che sono state adottate nei sistemi sangue, plasma e plasma derivati in Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Germania, Francia, Belgio e Italia. Ne sono emersi due modelli organizzativi, uno costruito su un sistema di quasi mercato e un altro invece verticalmente integrato. Questa analisi ci ha consentito di leggere in una chiave prospettica anche la situazione italiana e riuscire a contestualizzare quelli che possono essere i futuri sviluppi.